Appartieni da poche incarnazioni. Aveva una faccia simpatica che lo rendeva gradito. Parlava l'italiano con la pronuncia molle, molto rapida, della sua lingua. L'extracomunitario era un giovane di buon carattere che si era adattato alla dura fatica della sua esistenza, meglio della maggior parte degli altri migrati e, sebbene fosse un rigido fautore della disciplina, tutti i suoi dipendenti lo rispettavano. Se proponeva una modifica al metodo di lavoro, il proprietario della fabbrica, molto irascibile, che in gioventù aveva quasi ucciso un concorrente, lo approvava mettendogli una mano sulla spalla. Era una prova di stima più palpabile di mille abbracci. Un giorno l'extracomunitario si avvicinò alla porta del bugigattolo dove svolgeva le sue funzioni di caporeparto e gridò, sorpresa! Uno dopo l'altro gli operai entrarono nel bugigattolo e rimasero in attesa in piedi o seduti a terra intorno al tavolo di cucina che faceva da scrivania. Rapida ed efficiente, la moglie dell'extracomunitario distribuì piatti di carta portandone due alla volta. L'extracomunitario mangiò in fretta la sua porzione e poi distribuì un dolce del suo paese fatto con molto zucchero e cosparso di una specie di marmellata. Tutti bevero aranciata e Coca-Cola. Poi l'extracomunitario disse Vi ho riuniti qui per comunicarvi un pensiero che vi può essere utile. L'Oriente da cui proveniamo crede da sempre nella reincarnazione ed un errore che io ho fatto da quando sono qui è di capire se il mio popolo era un popolo evoluto o un popolo bambino rispetto al popolo italiano. Adesso sono certo che appartenere ad un popolo o ad un altro non ha nessuna importanza come non ha importanza sapere se, in qualunque paese, siamo stati potenti o mendicanti. Quello che importa è se nella vita precedente siamo stati buoni e altruisti e questo non ha nulla a che vedere con l'appartenenza ad un popolo o ad un altro perché conta solo ciò che abbiamo compreso così ti sei fatto eroe, l'interruppe un lavorante italiano. L'extracomunitario rispose con la disinvoltura di chi ha una lunga familiarità con il concetto di reincarnazione. disse Tu appartieni da poche incarnazioni al popolo italiano per cui indossi ancora una maschera con cui vuoi abbellire te stesso nei riguardi degli extracomunitari. Grazie. 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 Grazie.